Grave lutto nel mondo del cinema, ma anche della moda. E' morto infatti Carby Dean. Era una bellissima modella, ma anche attrice del Sudafrica. Era da città del capo il 5 di febbraio del 90. Si è spenta il 29 agosto 2022 a New York, The Big City, The Big Apple, la grande nera. Famosa per interpretazioni epiche nella pellicola Spad, Spad 2, per la serie Black Rick Dealing, ma anche per essere stata la protagonista nella famosa pellicola, o meno il famosissimo film della Palma d'Oro, ossia Triangle of Suddenes, dell'anno 2022, recentissimo. Si è spenta in un ospedale di New York, la grande nera, per colpa di una malattia che all'improvviso non l'ha perdonata. Era giovanissima, infatti aveva pensato di soltanto 32 anni di età. Già in suo affare la modella da 6 anni apparve in diverse pubblicità, in diversi pubblicità importanti, ma anche in diversi cataloghi. Firmò un contratto con l'Alpha Model, debuttò nel 2010 in quale età di attrice nel film Spad, interpretò il ruolo di Amanda, e poi un altro ruolo sempre in Spad 2, il secolo. Una donna semplice, carismatica, straordinaria, con occhi e capelli castani, cioè occhi colore castano, capelli colore castano scuro. Una donna straordinariamente magnifica e brava, oltre che triturante, carismatica. Una malattia improvvisa non l'ha perdonata. Da la tua italiana tutto, ciao, vidina, che tu possa riposare in pace con la mani.